Badalucca della vigna Badalucca Nasce dalla fermentazione con macerazione congiunta di uva venti diverse caratteristiche Un vino unico, di grande struttura, dotato di caratteristiche che gli consentono di durare intatto per molti anni L'uvaggio storico è così composto, 50% croatina, che apporta la struttura polifenolica, il colore e i sentori di fucchiossi 25% barbera, che fornisce con la sua acidità la spina dorsale del vino e permette una maggiore estrazione dalle vinacci della croatina Infine, per la restante parte, un Valghetta di Canneto e un Varara, che arricchiscono questo vino di note di eleganza e di piacevole austerità Alla svinatura, il vino storico passa in botti di legno per un affinamento minimo di 12 mesi e quindi in bottiglia per poi almeno altri 6 mesi Il prodotto così ottenuto non può essere messo in commercio, prima di 36 mesi dalla vendetta Il risultato è il vino di un grande corpo, eleganza e morbidezza e soprattutto un prodotto di notevole personalità Esprime le caratteristiche organolettiche della vigna e quindi della zona di provenienza È un vino novio, che perviva nel tempo Serviva ad una temperatura di 16-18 gradi, gradazione alcolica 14% Annata 2013 Grazie a tutti